ultima edizione del nostro telegiornale buonasera ben ritrovati con l'informazione di Telemolise apriamo parlando della gamma perché prende corpo e forma il progetto per il rilancio e della filiera avicola molisana settembre l'avvio dell'intera operazione l'annuncio nel corso di una conferenza stampa del presidente frattura e dei rappresentanti del sistema cooperativistico locale e nazionale anna maria di matteo l'annuncio nel corso di una conferenza stampa del presidente della regione fratture dei vertici del sistema cooperativistico locale e nazionale a settembre partirà il progetto per il rilancio della gamma e dell'intera filiera vicola saranno le cooperative le protagoniste di una operazione che rappresenta una sfida per allevatori trasportatori e lavoratori sostanzialmente noi immaginiamo che il molise debba assolutamente invertire quello che è stato il passato per fare questo credo che la popolazione tutto lo stiamo vedendo anche dagli incontri che stiamo vedendo è pronta a farlo è chiaro che ci vuole l'aiuto e il sostegno delle istituzioni in questa fase noi come mondo della cooperazione stiamo dando tutto l'apporto possibile per cui questa perché questa avvenga credo che siamo pronti a dare quella svolta che il molise si aspettava da anni la regione andrà avanti con il progetto che secondo il governatore l'unica strada percorribile i primi a credere a una diversa forma societaria di rilancio di una filiera importante come quella vicola sono stati allevatori e trasportatori oggi finalmente anche i lavoratori si convincono che investire su loro stessi per garantirsi il futuro forse in un momento di difficoltà come quello che viviamo con una regione che intende accompagnare questo processo innovativo in termini di imprenditorialità di forma societaria ci dà la insomma contezza che forse non abbiamo sbagliato a investire sulla socializzazione dell'impresa. Ieri c'è stata una riunione promossa anche dalla CIS alla quale hanno partecipato i lavoratori è una parte era particolarmente insomma preoccupata non condivide forse magari il rischio di questa nuova impresa? Sicuramente il tema del rischio imprenditoriale continua a essere l'elemento che più preoccupa tanti lavoratori prima parlavo appunto di una innovazione culturale io mi auguro che insomma il buon esempio di chi già si è promosso per la costituzione della cooperativa possa essere di buon esempio per gli altri. Il costo complessivo significa parlare di circa 30 milioni di euro di investimento che prevederanno un impegno da parte dell'amministrazione regionale esclusivamente sull'investimento nella misura pari al 50%. La rimanente quota una parte mezzi propri delle cooperative lavoratori trasportatori e produttori vari la rimanente parte dal sistema bancario. Subito dopo l'estate intendiamo cominciare stiamo verificando se è conveniente realizzare una nuova struttura o come siamo ormai intenzionati a fare recuperare la struttura esistente velocizzando però i tempi di gestione con la struttura che cura comunque il concordato della proprietà. L'autostrada del Molise per il momento è salva ma lo stanziamento governativo è stato ridotto da 500 a 200 milioni e inoltre il primo tratto in programma è stato ridimensionato non sarà più Boiano San Vittore ma Boiano Castelpetroso. L'ha detto il viceministro alle infrastrutture Riccardo Nencini nell'incontro alla bazia di San Vincenzo con Frattura e Nanni. Enzo di Gaetano. Non più un'autostrada ma un'autostradina i sogni di gloria dei sostenitori dell'autostrada del Molise devono fare i conti con la Stan in Review e con gli obiettivi di altre regioni e altri politici spesso più forti dai nostri. L'amara verità è venuta fuori nel corso dell'incontro alla bazia di San Vincenzo tra Riccardo Nencini, viceministro alle infrastrutture, il presidente della regione Frattura e l'assessore ai lavori pubblici Nanni. È stato proprio Nencini a dire all'inizio tutta la verità. Nel corso di una tempestosa riunione del Cipe a fine giugno all'ordine del giorno c'era addirittura la revoca totale del finanziamento al Molise. Solo la sua strenua difesa dell'opera, così ha detto lo stesso Nencini, ha evitato la definitiva cancellazione del finanziamento. Ma al Molise comunque un bel taglio era già stato fatto, infatti si è scesi dagli iniziali 500 milioni a soli 200. Tanti quanti basteranno, se basteranno, a fare una mini autostrada tra Boiano e Castelpetroso, rimandando al libro dei sogni ogni eventuale progetto di prolungamento. Le parole di Nencini sono state avallate anche da Frattura, che ha aggiunto come fosse stato un errore parlare fin qui di Termoli San Vittore. La realtà, ha sottolineato il governatore, è che il progetto dell'autostrada è sempre stato quello della Termoli Boiano. Insomma, ricapitolando, per ora al Molise sono stati assegnati solo 200 milioni. Per il resto si vedrà. Quando si vedrà. Ragion per cui l'ipotesi più accreditata è che alla fine, con solo 200 milioni a disposizione, l'autostrada si risolva in una duplicazione del rettilineo di Boiano tra Cantalupo e Vinchiaturo, senza viadotti e gallerie, opere per cui bisogna stanziare tanto denaro che non c'è. E ancora resta la domanda finale. Siccome si tratta di un'opera da cofinanziare, si riuscirà a trovare un privato disposto a tirare fuori altri 200 milioni per realizzare un tratto autostradale di una ventina di chilometri? Un segmento così limitato, quali incassi potrebbe garantire al privato per tornare in possesso dei capitali anticipati? La realtà presumibile è che alla fine, come anticipato da Franco Valente, streno oppositore dell'autostrada, con quei soldi si potranno solo pagare le parcelle dei progettisti e poi, per il resto, campacavallo. Per Nencini bisognerà puntare soprattutto sui fondi strutturali 2014-2020, se l'autostrada dovrà uscire davvero dal libro dei sogni. Ma Nencini non ha solo parlato di autostrada a San Vincenzo, infatti ha anche anticipato che è intenzione del governo finanziare l'interporto di Termoli. Qui i soldi già ci sarebbero in quanto per il governo Renzi, Termoli, per la sua posizione strategica, rientra a pieno titolo tra i centri obiettivo di spesa. La cronaca, due molisani originari di San Felice del Molise, ma residenti da tempo in Belgio, hanno perso la vita in un maxitamponamento tra sei auto e due tir sull'A14 tra Ortona e Lanciano in direzione Bari. L'incidente si è verificato intorno alle 14, il tratto autostradale è rimasto chiuso fino alle 16.30, causando una coda di sei chilometri. I due molisani, Cristian-Marie Fafra, 68 anni, e Ugo Mastrangioli, 70, viaggiavano a bordo di una Mercedes con targa belga quando sono stati investiti da un tir che stava effettuando un trasporto eccezionale. Sul posto, vigili del fuoco, polizia stradale e un eli ambulanza del 118, altre mezzi a terra per soccorrere i feriti. In gravi condizioni anche il conducente del tir 51 anni di Pescara che è stato trasportato in ospedale a Chieti con l'elicottero. Ed ora torniamo a parlare del processo per la morte del poliziotto Giovanni Iacovone, assoluzione per il professionista esernino imputato di omicidio derivante da altro delitto. Si tratta di Pietro Campellone, assolto perché il fatto non sussiste. Enzo Di Gaetano Il fatto non sussiste. Con questa motivazione è stato assolto dall'accusa di omicidio come conseguenza di altro reato Pietro Campellone, il dermatologo isernino accusato di aver provocato la morte di Giuseppe Iacovone, il poliziotto che lo stava inseguendo in auto. Un episodio di cronaca risalente al marzo del 2012 quando Pietro Campellone, al volante di un Audi Q7, stava transitando sull'esene Venafro. Secondo l'accusa, Campellone stava effettuando tutta una serie di sorpassi pericolosi. I poliziotti a bordo di una volante, dopo averlo visto passare ad alta velocità, si mettevano al suo inseguimento a sirene spiegate, ma l'Audi non si fermava, proseguendo nella sua corsa, mentre la volante, guidata da Giuseppe Iacovone, si schiandava contro un tir, che veniva in senso inverso diretto a Esernia, provocando la morte del conducente. La domanda a cui accusa e difesa hanno dato risposte completamente diverse era questa. Campellone era cosciente di essere inseguito o ne era inconsapevole? Se fosse stato cosciente, come hanno sostenuto Paolo Albano e Arturo Messere, avrebbe dovuto fermarsi. Scappando via, aveva invece provocato indirettamente la morte di Iacovone. Del tutto opposta alla tesi difensiva, Campellone non si era accorto di essere inseguito e quindi era del tutto inconsapevole e di conseguenza non poteva essere ritenuto responsabile dell'incidente mortale in cui aveva perso la vita il suo inseguitore. Entrambe le parti hanno presentato le loro perizie che davano responsi del tutto opposti. Alla fine del ritorno abbeviato, il gruppo di Isernia Elena Quaranta, ha optato per l'assoluzione di Pietro Campellone perché il fatto non sussiste. Il giudice ha assolto perché il fatto non sussiste, quindi significa che proprio i presupposti del reato come noi abbiamo sempre sostenuto sin da quando abbiamo chiesto l'incidente probatorio per lo svolgimento della perizia, non ci sono mai stati. Per cui siamo molto soddisfatti. Cambiando fronte le reazioni sono state abbastanza pesanti. Un procuratore albano scuro e involto non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma ha preannunciato appello immediato. Arturo Messere, avvocato della famiglia Iacovone, ha parlato di una sentenza assolutamente inaspettata di fronte a responsabilità e comportamenti penali conclamati, ma il celebre legale non molla e si dice convinto di ribaltare in appello l'esito del primo grado. Noi siamo dell'avviso che c'è una prova monumentale sulle responsabilità dell'imputato. Gli errori giudiziari sono all'ordine del giorno, per questo motivo ci sono le impugnazioni. E come disse Ottaviano ai cesaricidi, ci rivedremo a Filippi. Stessa amarezza anche dei familiari del Polizzotto morto in servizio. Per loro è come se Giuseppe fosse morto di nuovo. Oggi abbiamo perso per la seconda volta nostro fratello, perché nostro fratello a questo punto è morto in vano. Mio fratello quel giorno voleva evitare che questa persona causasse la morte di altre persone, che stava mettendo a repentaglio l'ingolumità degli utenti della strada. Per la seconda volta la giustizia italiana ha ammazzato mio fratello oggi. Il giudice ha ammazzato mio fratello. La Commissione Agricoltura del Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge competitività e una serie di emendamenti migliorativi proposti da Roberto Ruta. L'esponente del PD ha precisato anche che il progetto Granarolo sulle Granmanze verrà spostato in un'altra regione. Giovanni Minicozzi. Dopo Campo Libero arrivano altre misure in favore del comparto agricolo e della pesca. La Commissione Agricoltura di Palazzo Madama ha infatti approvato all'unanimità il DL competitività. Si tratta di una legge composta da 20 articoli opportunamente emendati su proposta del senatore Roberto Ruta per rilanciare ed incentivare i settori strategici per l'economia proprio dell'agricoltura e della pesca. A darne notizia questa mattina è stato lo stesso senatore Ruta, capogruppo PD in Commissione Agricoltura al Senato, nel corso di una conferenza stampa. Un traguardo importante ha evidenziato il senatore non solo per l'approvazione all'unanimità, ma soprattutto perché il blocco di emendamenti ha ottenuto il parere favorevole del governo. Un testo blindato, ha assicurato ancora il senatore, che sarà approvato entro il prossimo 22 luglio. Tra le proposte più importanti da segnalare, l'introduzione dei mutui decennali a tasso zero finalizzati all'acquisto della terra in favore dei giovani under 40, la possibilità per gli imprenditori agricoli di stipulare, contratti di rete, sanzioni più leggere per le imprese in caso di violazioni delle norme agroalimentari e interventi a sostegno del Made in Italy anche nel comparto della pesca. Inoltre è stato previsto l'istituzione di un sistema informatico unico per la coltivazione biologica allo scopo di snellire le procedure burocratiche. Verrà attivato anche un sistema di valutazione dell'affidabilità delle imprese agricole con il cosiddetto rating aziendale che certifica la qualità del prodotto e il rispetto di tutte le normative. Apprezzamenti per gli emendamenti approvati e ringraziamenti al senatore Rutta sono stati espressi dalle associazioni agricole e soprattutto dal coordinamento nazionale delle cooperative della pesca per aver dato al settore, hanno detto, una giusta collocazione nel pacchetto campo libero. Infine il senatore Roberto Rutta ha struncato sul nascere le polemiche sul progetto Grammanze tornate alla ribalta dopo l'approvazione della delibera Cipe che prevede l'insediamento di 12.000 manze nel territorio di Larino. Si tratta del progetto iniziale, ha precisato il senatore, ma Granarolo ha confermato che non farà nessun investimento nel Molise e che ha già presentato la richiesta al Cipe, ha concluso Rutta, per spostare l'insediamento in un'altra regione. Il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, ha invitato i sindaci a manifestare davanti a Palazzo Chigi per protestare contro la mancanza di fondi con cui deve fare i conti l'amministrazione provinciale. C'è la seria possibilità, ha spiegato De Matteis, che in autunno non saremo in grado di assicurare il riscaldamento alle scuole superiori, predisporre il piano neve e il taglio dell'erba. De Matteis ha poi ricordato che la legge continua ad affidare le funzioni alle province mentre si discute di una inesistente soppressione. Per questo e l'invito rivolto ai sindaci dovremo chiedere spiegazioni al governo con una manifestazione pacifica a Roma. Ed ora andiamo a termoli. Sette consiglieri di minoranza del comune si sono scagliati contro la proposta di legge sul piano sanitario che sarà portata a Palazzo Moffa. Così si mortifica il diritto alla salute dei cittadini del Basso Molise. Questa è la denuncia degli esponenti dell'opposizione che hanno chiesto un consiglio comunale aperto. Fabrizio Occhio Nero. A lanciare un nuovo allarme per il futuro della sanità in Basso Molise sono stati sette consiglieri di opposizione al comune di Termoli. La regione, ha spiegato Michele Marone, sta per trasformare i piani operativi congelati dal TAR che ha dato ragione ai cittadini di Venafro in proposta di legge. Questo aggiunto vuol dire che non si potrà ricorrere davanti a un giudice sarà difficile sollevare vizi di illegittimità. Da qui l'invito a soprassedere è rivolto agli stessi consiglieri di Palazzo Moffa. Per una proposta è stato ribadito che in pratica non considera alcun apporto partecipativo e di concertazione dei comitati. Noi auspichiamo che in sede di Consiglio Comunale, in maniera monotematica e aperta, anche la maggioranza si unisca al nostro grido di sollecitazione nei confronti della regione affinché ponga in essere un programma operativo sanitario che vada a garantire l'offerta sanitaria in maniera razionale, proprio al fine di andare a garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini del Basso Molise. Meno servizi, mobilità passiva verso altre regioni, dei parti depotenziati sono alcuni dei rischi ribaditi dagli esponenti della minoranza. L'ex sindaco Antonio Di Brino ha parlato anche da operatore sanitario. Piano piano l'ospedale di Termoli, così come è accaduto per l'ospedale di Larino, sta morendo, sta morendo perché non viene sostituito il personale, i reparti che funzionano, i servizi che funzionano li si vogliono chiudere, esistono problemi seri dal punto di vista anche delle liste di attesa, quindi io parlo di eutanasia, cioè di morte dolce perché piano piano forse la strategia di questo governo regionale è quello di chiudere le strutture pubbliche, ovviamente a vantaggio del privato. A seguire gli interventi anche i rappresentanti del Comitato Santimoteo dell'Associazione dei Cardiopatici. Ancora disagi sul treno Roma a Campobasso rimasto fermo per due ore nelle campagne di San Pietro. Infine i passeggeri chiedono interventi risolutivi. Vediamo cosa è successo anche grazie a queste immagini amatoriali che ci sono arrivate in redazione. Tonino Danese. Che ne pensate di questo treno? Bellissimo. Un commento ironico e amaro quello di questa signora, di chi ormai sa come vanno le cose da decenni sul treno Roma a Campobasso. I disagi sono quasi quotidiani e sembra che a nulla valgano le proteste e nulla valgano accordi e proclami della politica. I vagoni restano quelli vecchi, fatiscenti di sempre e anche i ritardi continuano a verificarsi. Ieri una situazione esasperante l'ennesima. Il treno delle 14.35 dalla capitale a Campobasso fermo per due ore. Tra le campagne di San Pietro infine a pochi chilometri da Venafro. Carrozze piene, pioggia battente. Cosa è successo adesso? La domanda di tutti. Dopo la prima mezz'ora di sosta forzata, i tre ferrovieri che corrono sopra e sotto telefonini alle orecchie. Un treno fermo davanti, un guasto, dicono voci che si rincorrono. Intanto i minuti passano. C'è chi, come questo ragazzo albanese, ha perso la coincidenza per tornare a casa nella sua terra? Ha perso la coincidenza? Sì. Cosa ne pensa di questo viaggio? Che paschino. Questo treno? Questo treno. Chi deve cambiare il turno di lavoro è il treno, un microcosmo di vita e il bimbo affamato e stanco. L'anziano sofferente che deve prendere la pillola, perché non si torna indietro a Cassino e si provvede con un pullman sostitutivo? La richiesta di molti. La risposta scoraggiata dell'affannato ferroviere che comunque cerca conferme dai vertici e non abbiamo l'autorizzazione. Nel treno gli animi sono spazienti urtati e anche rassegnati. È una cosa impossibile. Bisogna ripristinare il contesto più breve possibile, quello che c'era prima e non con questi treni che si vapore a T-Portini e a altre parti, la gente che lavora praticamente per te tempo e tutti. Sono senza parole ma... È la linea, il capopasso, è la regione molista che non va bene, io sono molisana ma vivo a Roma da qua quasi 50 anni, però quello che vedo qua non lo vedo da nessuna parte. Non rilego la mia regione, per carità, però cercate di fare più cose e le tasche tenetelo un po' fuori. È lo schifo della gestione delle ferrovie dello Stato e la regione molista. Ci sono stranieri allibiti per quanto sta accadendo. Il ferroviere anche non ce la fa più, continua a chiamare i suoi capi a telefono per avere disposizioni sapere e informare sui disagi. Siamo fermi in attesa di deciduti. Noi siamo fermi, la gente sta in sofferenza perché ci sono anche dei bambini. Intanto nel treno viaggia anche la consigliera regionale di minoranza, Angela Fusco Perrella. Farà una mozione? Sì, sì, ho un'interrogazione all'assessore per capire questo problema. Si apprende che un fulmine ha colpito la linea, disattivandola. La stazione di Venafro non è operativa, bisogna far capo a Vairano. Si riparte, ma di nuovo uno stop. Alcune carrozze sono in una galleria, i motori vengono spenti per sicurezza. Gli scambi sulle rotaie, essendo tutto bloccato, vanno fatti a mano. Ci sono dei tecnici ai tre ferroviari del treno, una situazione da film anni venti a tratti paradossale. Finalmente si arriva a Venafro, l'incubo pare finito. A Isernia, grazie alla sollecitudine dei macchinisti, ai passeggeri viene data acqua. Dopo sei ore abbondanti dalla partenza da Roma, l'arrivo a Campobasso. Tutti sono stanchi, si torna a casa con una consapevolezza. Il problema va affrontato seriamente e risolto al più presto. Basta proclami. Servono fatti, i molisani hanno diritto a servizi dignitosi, a un trasporto ferroviario dignitoso. Tragedia sulla Trignina. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, un 36enne di schiavi d'Abruzzo sposato con un figlio si è lanciato nel vuoto, precipitando per 80 metri dal viadotto che fiancheggia Civitanova del Sannio. Il terribile impatto con il suolo non gli ha lasciato scampo. Scattato l'allarme sul posto, sono accorse le forze dell'ordine, gli operatori del 118, ai quali non è rimasto altro da fare che trasferire il corpo al veneziale di Isernia. Ancora misteriose le ragioni del tragico gesto, forse saranno spiegate nel biglietto che l'uomo ha lasciato in macchina e che è stato acquisito dai carabinieri. È bufera giudiziaria sull'azienda speciale Moliseacque. Da tre mesi senza direttore generale, dopo il licenziamento di Giorgio Marrone, l'ex direttore generale, dopo alcune segnalazioni senza esito sulle legittimità del collegio sindacale scaduto da un anno, ha presentato un esposto in procura per abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio contro gli amministratori dell'azienda e contro il governatore Paolo Frattura. Ore decisive per l'avvio della campagna allo zuccherificio del Molise, dove è slittata l'accensione dei forni. Intanto i bieticoltori non hanno ricevuto il saldo dei pagamenti. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Dalla fabbrica fanno sapere che è tutto pronto per iniziare la campagna allo zuccherificio. Ordini di materiali, lavori di manutenzione, contratti firmati e forni calci in carico per l'accensione. Si aspetta quindi solo l'azienda per dare l'avvio ai conferimenti di bietole. Per una stagione evidenziano le associazioni di categoria ancora densa di incertezza. Dobbiamo raccogliere bietro, dobbiamo pagarle, dobbiamo saldare il vecchio credito e dobbiamo cercare di portare avanti questa battaglia. Con un prezzo dello zucchero calato in maniera drastica, l'assessore regionale dell'agricoltura Vittorino Facciolla ha chiesto garanzia ai ministeri per un intervento di accompagnamento necessario e c'è anche la regione Puglia che può fare la sua parte. Abbiamo chiesto altresì alle due regioni, la regione Puglia dove è concentrata il 90% della produzione e all'assessore Nardoni di essere protagonista e di difendere questi 4.000 ettari con interventi anche tesi a una crisi di mercato legata al crollo dello zucchero di intervenire finanziariamente a favore delle aziende bieticole. Le associazioni bieticole non hanno ricevuto ancora il saldo del 2013 e continuano ad esprimere preoccupazione. Le nostre richieste sono il pagamento del saldo della campagna 2013 dei circa 600.000 euro, per questa ragione abbiamo inviato una lettera dall'avvocato per mettere in moro lo zuccherificio al rispetto degli accordi. Noi siamo pronti con il raccolto dal primo di luglio e ci sono dei problemi già in campagna e gli agricoltori protestano per questo. E nel pomeriggio c'è stata la nomina del nuovo amministratore unico dello zuccherificio, si tratta di Francesco Fusco, termolese già funzionario allo stabilimento Fiat. Sarà lui a guidare la fabbrica dopo le dimissioni del manager Alberto Alfieri. Rapina a mano armata. Ieri sera in una tabaccheria di Santa Croce di Magliano due uomini a volto coperto e pistola in pugno hanno minacciato il titolare e due clienti facendosi consegnare l'incasso circa 700 euro e diverse ricariche telefoniche. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Il segretario del PSI Riccardo Nencini, viceministro alle infrastrutture in Molise per incontrare i quadri e dirigenti regionali del partito. L'incontro a Castelnuovo al Votturno ha visto la partecipazione di sindaci e amministratori socialisti del Molise. Vediamo. Il partito socialista del Molise si ritrova e si riorganizza in previsione delle nuove sfide cogliendo l'occasione della visita di Riccardo Nencini, segretario nazionale del partito e viceministro alle infrastrutture. Un incontro svoltosi alle falde di Montemarrone fortemente voluto da Marcello Miniscalco, segretario regionale del PSI. Noi oggi ci vediamo con Riccardo Nencini, segretario nazionale del partito, con tutti i socialisti molisani che sono riuniti qui con un nutrito gruppo di persone che sono nelle istituzioni che ci hanno alcuni già fatto il passaggio con noi, altri dimostrato una grande attenzione sicuramente a settembre vi informeremo di passaggi di un paio di sindaci sicuramente del nostro partito. E quindi Riccardo è qui a testimonare la sua vicinanza ad un partito che cerca di tornare un grande partito. Riccardo Nencini nel suo intervento a Castelnuovo ha parlato di un partito socialista alleato ma non succube del partito democratico. Il PSI ci tiene a rimarcare la propria autonomia e a rilanciare la sua proposta politica. Il PD è un grande partito, noi siamo un partito più piccolo, noi siamo autonomi, abbiamo la nostra organizzazione, la nostra identità. Il Molise è parte di un giro d'Italia importante, io sono qui oggi, domani sarò in Puglia, poi in Campania, ma qui c'è un pezzo di partito che ha radici molto sane, ha fatto un risultato elettorale dignitoso alle elezioni amministrative scorse e si prepara ai prossimi appuntamenti elettorali e sarà ricco di sorprese. E il futuro come lo vede lei? Dicevo Renzi, sembra che voglia mangiare tutta la politica italiana. Riusciamo a mantenere un'alleanza nel rispetto reciproco delle differenze. Il PD è il partito democratico, il PSI è il partito socialista. Collaboriamo, abbiamo le nostre opinioni, non saremo sempre d'accordo. Le cito due casi dove ci sarà sicuramente disaccordo sulla legge elettorale, sull'Italicum, se rimane esattamente come approvato dalla Camera, ma anche sulla riforma della giustizia. Noi vogliamo la responsabilità civile del magistrato, perché se il magistrato sbaglia, come sbaglia il medico, come sbaglia l'avvocato, deve poter pagare rispetto al cittadino danneggiato. Sono due differenze che manteniamo. Senato, non in Cili? Senato, la nostra ipotesi di riforma era l'elezione indiretta del Senato, separarlo dalla Camera, avere un Senato di taglio federalista. Questa riforma va bene, può essere corretta e migliorata quando approderà al Senato medesimo. È stato presentato questa mattina all'ex GIL di Campobasso il World Music Project, il Festival della Musica, organizzato da Simone Sala in collaborazione con la Regione e alcuni comuni molisani. Vediamo. Musica, sinonimo di cultura, elemento necessario per valorizzare singoli territori e piccoli borghi capaci di incantare grandi platee. Ed è su questo spirito che è stata organizzata la settima edizione del World Music Project, un'idea del pianista molisano Simone Sala, che anche quest'anno è riuscito ad organizzare una manifestazione di quattro giorni, unica nel suo genere, con grandi nomi di fama nazionale, cominciando con Elio e le storie tese, per chiudere con Tullio d'Episcopo. Comune capofila ancora una volta Sepino e poi Pizzone, Isernia e Colle d'Anchise. La cultura non è solo l'etnia, ma è anche guardare avanti, è anche il futuro. Il World Music Project guarda avanti e quindi vuole essere una manifestazione che mette in partenariato quattro comuni, la Regione, dieci aziende private per cercare di raccontare il Molise al meglio, di dare visibilità a quelle che sono le sue location più interessanti. E quindi quest'anno una grande settima edizione con oltre 250 artisti a Isernia, Colle d'Anchise, Sepino e Pizzone e tra i grandissimi che quest'anno ci verranno a trovare, Flavio Bortro, Tullio d'Episcopo e Elio e le storie tese. Il World Music Project sarà una vetrina turistica per le piccole e grandi bellezze molisane. Dal primo al 5 agosto la musica animerà quindi i borghi di Sepino, Pizzone, Isernia e Colle d'Anchise e farà parlare del Molise anche oltre i confini regionali. Questa manifestazione è già su freccia, su tutti i treni italiani, su atmosfere, su tutti gli aerei italiani. Faremo un documentario che andrà sulle reti nazionali. Ecco, io credo che questo sia davvero fare marketing perché entriamo nel market del turismo in Italia ma se non ci facciamo conoscere non riusciremo mai a diventare competitivi e comunicativi. Quindi il World Music Project vuole essere un biglietto da visita per questa terra nei confronti delle nostre regioni vicine e speriamo che sappiano cogliere la grandezza e la bellezza di quello che facciamo e soprattutto di questa terra. Ed è tutto per quest'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci preferito. a tutti voi una cordiale buonanotte.